Vabbè Salvatore, non parli più adesso. Hai perso, Salvatore ha perso una partita. Adesso giochiamo un'altra partita, vediamo se Torre riesce a vincere. Forza Salvatore, devi vincere questa partita. Pronti via! Secondo, primo, sta vincendo Salvatore. Adesso sta in prima posizione, in seconda posizione. Qualcuno l'ha superata, ma ha accelerato tutta velocità e sta vincendo al primo posto. Adesso deve fare tre giri, siamo già al quindicesimo secondo e Salvatore ancora al primo. Adesso ha preso il missile, se questo si è messo, uno si è messo davanti. Missile di Salvatore contro l'altro giocatore. E il missile non l'ha colpito, Salvatore è sempre secondo. Forza Salvatore! No, è primo Salvatore, non l'avevo visto, mi ero sbagliato, primo Salvatore. No, di nuovo secondo perché qualcuno ha tamponato da dietro e un altro gli ha superato davanti. Volo, vio, tutta velocità! E sta vincendo Salvatore che è sempre primo. Adesso devi commontare tu. Adesso la valore, ma sparte vuoi missile per il primo posto. e non l'ha superato. Ora, cantando una pedra franco natale. E in testa, è l'asfalto chica, chica! Ma l'ha fatto su un bar e il bersaglio con un mister a Salvatore. Ora il bersaglio. Bomba, grossa grossa. Bomba! Bomba di Salvatore! Bomba in arrivo sul terzo binario! Bomba!